effetti d'un sogno interrotto abito in una vecchia casa che pare la bottega di un rigattiere una casa che ha preso chissà da quanti anni la polvere la perpetua penombra che la opprime al rigido delle chiese e vi stagna il tanfo di vecchio ed appassito dei decrepiti mobili d'ogni foggia che la ingombrano e delle tante stoffe che la parano preziose sprindellate e scolorite stese e appese dappertutto in forma di coperte di tende e cortinaggi io aggiungo di mio a quel tanfo quanto più posso da peste delle mie pipe intartarite fumando tutto il giorno soltanto quando rivengo da fuori mi rendo conto che a casa mia non si respira ma per uno che vive come vivo io basta lasciamo andare la camera da letto ha una specie d'alcova su un ripiano a due scalini il soffitto in capo l'architrave sorretto da due tozze colonne in mezzo cortinaggi anche qui per nascondere il letto scorrevoli su bacchette d'ottone dietro alle colonne l'altra metà della camera serve da studio sotto le colonne è un divanaccio per dir la verità molto comodo con tanti cuscini rammucchiati e davanti una tavola massiccia che fa da scrivania a sinistra un grande camino che non accendo mai nella parete di contro tra due finestrette un antico scaffale con cadaveri di libri rilegati in carta pecora ingiallita sulla mensola di marmo annerito del camino è appeso un quadro secentesco mezzo affumicato che rappresenta la maddalena in penitenza non so se copia o originale ma anche se copia non priva di un certo pregio la figura grande al vero è sdraiata bocconi su una grotta un braccio appoggiato sul gomito sorregge la testa gli occhi abbassati sono intenti a leggere un libro al lume di una lucerna posata a terra accanto a un teschio certo il volto il magnifico volume dei fulvi capelli sciolti una spalla e se non scoperti al caldo lume di quella lucerna sono bellissimi la casa è mia e non mia appartiene con tutto l'arredo un mio amico che tre anni fa partendo per l'america me la lasciò in garanzia ad un grosso debito che ha con me quest'amico si intende non si è più fatto vivo né per quante domande e ricerche io abbia fatte sono riuscito ad averne notizie certo però non posso ancora disporre per riavere il mio né della casa né di quanto vista dentro ora un antiquario di mia conoscenza fa all'amore con quella maddalena in penitenza e l'altro giorno mi condusse in casa un signore forestiere per fargliela vedere il signore sulla quarantina alto magro calvo era parato di stranissimo lutto come usa ancora in provincia di lutto pure la camicia ma aveva anche impressa sul volto scavato la sventura da cui è stato di recente scolpito alla vista del quadro si contraffece tutto e subito si coprì gli occhi con le mani mentre l'antiquario gli domandava con strana soddisfazione non è vero non è vero quello più volte col viso ancora tra le mani gli fece segno di sì sul cranio calvo le vene gonfie pareva gli volessero scoppiare si cavò di tasca un fazzoletto listato di nero e se lo portò agli occhi per frenare le lacrime irrompenti lo vidi a lungo sussultar nello stomaco con un fiottio fitto nel naso tutto meridionalmente molto esagerato ma forse anche sincero l'antiquario mi volle spiegare che conosceva fin da bambina la moglie di quel signore che era del suo stesso paese le posso assicurare che era precisa l'immagine di questa maddalena me ne sono ricordato ieri quando il mio amico venne a dirmi che gli era morta così giovane appena un mese fa lei sa che son venuto da poco a vedere questo quadro già ma io sì mi disse allora che non poteva venderlo e neanche adesso mi sentii afferrare per il braccio da quel signore che quasi mi si buttò a piangere sul petto scongiurandomi che glielo cedessi a qualunque prezzo era lei sua moglie lei tale quale lei così tutta come lui soltanto lui lui il marito poteva averla veduta nell'intimità e così dicendo alludeva chiaramente alla nudità del seno non poteva più perciò lasciarmela lì sotto gli occhi dovevo capirlo ora che sapevo questo lo guardavo stordito e costernato come si guarda un pazzo non parendomi possibile che dicesse una tal cosa sul serio che potesse cioè sul serio immaginarsi che quello che per me non era altro che un quadro su cui non avevo mai fatto alcun pensiero potesse ora diventare anche per me il ritratto di sua moglie così col petto tutto scoperto come lui solo poteva averla veduta nell'intimità e dunque in uno stato da non poter più lasciarla sotto gli occhi a un estraneo la stranezza di una tale pretesa mi promosse uno scatto di riso involontario ma no veda caro signore io sua moglie non l'ho conosciuta non posso dunque attaccare a questo quadro il pensiero che lei sospetta lo vedo là un quadro con un'immagine che sì mostra non l'avessi mai detto mi si parò davanti quasi per saltarmi addosso gridando le proibisco di guardarla ora così in mia presenza per fortuna si intromise l'antiquario pregandomi di scusare di compatire quel povero forsennato che era stato sempre fin quasi alla follia geloso della moglie amata fino all'ultimo di un amore quasi morboso poi si rivolse a lui e lo scongerò di calmarsi che era stupido parlarmi così farmi un obbligo di cedergli il quadro in considerazioni di cose tanto intime osava anche proibirmi di guardarlo era impazzito e se lo trascinò via di nuovo chiedendomi scusa della scenata a cui non s'aspettava di dovermi fare assistere io ne rimasi talmente impressionato che la notte me lo sognai il sogno a dir più precisamente dovette avvenire nelle prime ore del mattino e proprio nel momento che un improvviso fracasso davanti all'uscio della camera una zuffa di gatti che mentre noi in casa non so di dove forse attratti da tanti topi che l'hanno invasa mi svegliò di soprassalto effetto del sogno così di colpo interrotto fu che i fantasmi di esso voglio dire quel signore a lutto e la immagine della maddalena diventata sua moglie forse non ebbero il tempo di rientrare in me e rimasero fuori nell'altra parte della camera oltre le colonne dove io nel sogno li vedevo di modo che quando al fracasso springai dal letto e con una strappata scostai il cortinaggio potei intravedere confusamente un viluppo di carni e panni rossi e turchini avventarsi alla mensola del camino per ricomporsi nel quadro in un baleno e sul divano tra tutti quei cuscini scomposti lui quel signore nell'atto che da disteso si levava per mettersi seduto non più vestito di nero ma in pigiama di seta celeste a righine bianche e blu che dalla luce man mano crescente delle due finestre si andava dissolvendo nella forma e nei colori di quei cuscini e svaniva non voglio spiegare ciò che non si spiega nessuno è mai riuscito a penetrare il mistero dei sogni il fatto è che alzando gli occhi turbatissimo a guardare il quadro sulla mensola del camino io vidi chiarissimamente vidi per un attimo gli occhi della maddalena farsi vivi sollevar le palpebre dalla lettura e gettarmi uno sguardo vivo ridente di tenera diabolica malizia forse gli occhi sognati della moglie morta di quel signore che per un attimo s'animarono di quelli dipinti dell'immagine non potei più restare a casa non so come fece a vestirmi di tanto in tanto con un raccapriccio che potete bene immaginare mi voltavo a guardar di sfuggita quegli occhi li ritrovavo sempre abbassati e intenti alla lettura come sono nel quadro ma non ero più sicuro ormai che quando non li guardavo più non si ravvivassero le mie spalle per guardarmi ancora con quel brio di tenera diabolica malizia mi precipitai nella bottega dell'antiquario che è nei pressi della mia casa gli dissi che se non potevo vendere il quadro a quel suo amico potevo però cedergli in affitto la casa con tutto l'arredo compreso il quadro si intende a un prezzo convenientissimo anche da oggi stesso se il suo amico vuole c'era in quella mia proposta a bruciapelo tale ansia e tanto affanno che l'antiquario ne volle sapere il motivo il motivo mi vergognai a dirglielo vogli che mi accompagnasse lì per lì all'albergo dove quel suo amico alloggiava potete figurarvi come restai quando in una stanza di quell'albergo ve lo vedi venire avanti appena alzato dal letto con quello stesso pigiama a righine bianche e blu con cui l'avevo visto in sogno e sorpreso ombra nella mia camera nel lato di levarsi per mettersi seduto sul divano tra i cuscini scomposti lei torna da casa mia mi gridai allibito lei è stato questa notte a casa mia lo vedi crollare su una sedia atterrito belbettando oddio sì a casa mia in sogno sarà stato davvero e sua moglie appunto appunto sua moglie è scesa dal quadro io l'ho sorpresa che vi rientrava e lei alla luce mi è svanito là sul divano ma ammetterà che io non potevo sapere quando l'ho sorpreso sul divano che lei avesse un pigiama come questo che ha indosso dunque era proprio lei in sogno a casa mia e sua moglie è proprio scesa dal quadro come lei l'ha sognata si spieghi il fatto come vuole l'incontro forse del mio sogno col suo non so ma non posso più stare in quella casa con lei che ci viene in sogno e sua moglie che m'apre e chiude gli occhi dal quadro il motivo che ho io di averne paura non può averlo lei perché si tratta di se stesso e di sua moglie vada dunque a ripigliarsi la sua immagine rimasta a casa mia che fa adesso? non vuole più? sviene? ma allucinazioni signori miei allucinazioni! non rifiniva intanto ad esclamare l'antiquario quanto sono cari questi uomini sodi che davanti a un fatto che non si spiega trovano subito una parola che non dice nulla e a cui così facilmente s'acquietano allucinazioni